sconosci la foglia davanti e la foglia dietro il figo diventa troppo chiara la foglia dietro il figo diventa troppo chiara Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi invece il giovedì, sempre alle 9, lavoro su un altro quadro, un altro progetto. Io poi lavoro sempre su tante cose contemporaneamente. Sennò mi annoio. Il mercoledì lavoro su un quadro di a olio un fiore di pesco che sto disegnando, dipingendo con la tecnica fiamminga a olio. Ok, un altro po' ho lavorato. Ci vuole ancora, ci vuole ancora molto. Però non so se vedete che aver scurito questo mi ha portato a avere questo che sembrava troppo scuro. Comincio a essere troppo chiaro e comincio anche a vedere dov'è che devo intervenire. La stessa cosa qui, prima era troppo intenso, adesso lo devo alleggerire, cioè lo devo scurire un po' usando, probabilmente, siccome ha dei toni azzurrati, probabilmente dovrò lavorarci con la matita. Con grande calma, eh? Allora, lavorarci, perché è un verde molto freddo, con questo blu o con un azzurro che però per adesso non ho, poi lo tirerò fuori. Però è questa parte che è scura. Ci lavorerò con questo. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9 e mezza di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Demone anche tu! No! Grazie a tutti.